Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi avremo insieme una bustina degli orsetti del cuore e una dei filli mermaid. Cominciamo dagli orsetti del cuore. È una bustina molto molto grande. Vediamo cosa c'è all'interno. Abbiamo il fanbook contenente tutta la checklist degli orsetti del cuore con la loro descrizione. Anche dei dei racconti sugli animali e andiamo infine a vedere il nostro orsetto. Wow ma è bellissimo. Ha un piedistallo a forma di cuore e si attacca perfettamente qui sopra in modo da poter rimanere in piedi. Ha un sole sulla pancia ed è Mattacchiorso. Mattacchiorso. Con il suo senso dell'umorismo Mattacchiorso è sempre l'anima della festa. La cosa che lo rende più felice è vedere che tutti si divertono. Mettiamo ora qui Mattacchiorso insieme a noi e continuiamo ad aprire i nostri filli mermaid. Questa bustina è una bustina dei filli mermaid glitter golden edition edita dalla Jedi Sedicola. Andiamo ora ad aprire e vedere cosa si nasconde all'interno. Wow ma sono bellissimi sono veramente glitteratissimi. C'è la fan card all'interno e questo è Martin. Bellissimi. Sulla confezione c'è scritto che sono cristalli Swarovski. La coda è veramente meravigliosa. Ha anche una stella dietro. Come al solito la parte superiore è vellutata mentre la parte inferiore è glitterata. Meravigliosi. Questa puntata abbiamo quindi trovato Mattacchiorso e questo filli mermaid che si chiama Martin. Grazie a tutti e ci vediamo alla prossima puntata. Ciao! Ciao!